Sarà all'insegna della sicurezza e della tradizione l'edizione 2021 della Fiera di San Nicola. La manifestazione con la gestione di Pesaro Parcheggi torna dopo un anno di stop causato dalla pandemia dal 10 al 12 settembre. L'accesso in linea con le normative nazionali sarà consentito soltanto con il Green Pass, che sarà richiesto sia ai fruitori che agli ambulanti. I controlli, che saranno condotti dalle forze dell'ordine e dal personale indicato, saranno effettuati a campione sia nei principali varchi d'accesso che all'interno della Fiera. I cittadini sprovvisti di Green Pass, che saranno soggetti ai controlli, per evitare di essere sottoposti alle sanzioni amministrative, dovranno autocertificare il motivo del loro passaggio lungo il perimetro della Fiera, come per esempio il rientro nella propria abitazione, situata nell'area di svolgimento della manifestazione, o la volontà di recarsi in luoghi dove la certificazione non risulta obbligatoria. In aggiunta alla certificazione verde per accedere alla Fiera, sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Nella giornata di sabato 11 settembre, dalle 8.30 alle 13.30 e poi dalle 14.30 fino alle 20, sarà presente in Piazzale della Libertà il camper dell'area Vasta 1 per effettuare le vaccinazioni anti-covid anche senza prenotazione. Non volevamo rinunciare anche quest'anno, quindi c'è stato un lavoro condiviso con Pesaro Parcheggi e devo dire anche con tutte le forze dell'ordine. È fondamentale entrare alla Fiera di San Nicola tramite il Green Pass e in questo modo possiamo ritornare a vivere anche la nostra vita nella normalità, aiutare le attività commerciali, gli ambulanti e insomma tutto il settore che riguarda comunque la vita dell'economia. Quindi noi speriamo che sia numerosa, i cittadini che si presentano, cosa anche importante, abbiamo voluto mettere il giorno sabato dalla mattina alla sera ci sarà il camper vaccinale, quindi ci saranno persone che potranno fare il vaccino anche senza prenotazione e insieme al Presidente Luca Pieri abbiamo appunto pensato 24 ore prima, nell'inizio della Fiera di San Nicola, nelle farmacie Aspes ci sarà un potenziamento di personale per poter fare il tampone. Quindi diamo la possibilità a tutti di poter entrare alla Fiera. Fondamentale entrare con il Green Pass. Il controllo sarà a campione, lo sarà sia nei varchi di accesso che all'interno della Fiera. Ovviamente chi abita nelle civili abitazioni, chi va al mare deve rispettare la legge che richiama, dove lo richiama anche l'uso della mascherina. All'interno invece della Fiera l'uso della mascherina e il Green Pass ovviamente sono obbligatori. Questo perché? Perché dobbiamo essere in sicurezza ma appunto tornare finalmente ad una vita, ridare vita alla vita, qualcuno diceva qualche giorno fa. E finalmente la nostra Fiera 10, 11 e 12 con 450 espositori, dove troveremo ovviamente come passare un po' di tempo insieme e come fare acquisti possa essere un segnale di ripartenza. Per garantire le disposizioni di sicurezza previste ed evitare il più possibile il verificarsi di assembramenti, l'organizzazione di alcuni spazi della manifestazione è stata modificata. Più contenuto il numero degli espositori, anche se il numero di domande pervenute per la partecipazione all'evento è rimasto in linea con quello del 2019. Saranno circa 450 le bancarelle presenti, con spazi garantiti per gli oltre 370 ambulanti in possesso delle autorizzazioni decennali. I punti di ristoro saranno collocati in Piazzale della Libertà, Piazzale d'Annunzio e in prossimità dei giardini di Via Lezzara. I banchi di Via Gorizia saranno arretrati in Via Paterni per consentire l'utilizzo del parcheggio gratuito di Villa Marina, al quale si appiancheranno anche le aree di sosta a pagamento del Curvone e Marsala. Attivo il servizio di navetta gratuito dalle 16 alle 23 con una corsa ogni 15 minuti, che partirà dal parcheggio San Decenzio e arriverà a Piazza Fava. Confermati anche i mercatini dei bambini, che però potranno esporre esclusivamente nei giardini di Piazzale della Libertà. Sospesi invece spettacoli, concerti ed eventi collaterali, tra cui anche la cerimonia pirotecnica di chiusura.